Un attimo Enrico, un attimo, un attimo solo, chi mi vuole salutare? Sono, sull'aereo, ti vuole solo dire ciao Podestà, Presidente della Provincia. Ah beh, siamo Podestà, siamo Podestà. Aspetta che te lo faccio in una grande esclusiva di oggi eh, ciao. Sì, pronto. Oh il signor Peter Sellers, il Peter Sellers è il centrodestra. Come andiamo? Come sta? Come sta? Tutto bene, tutto bene. Come andiamo? Come andiamo? Questo PDL ormai è finito, è morto eh? Morto, si è morto questo PDL. Si lotta, si lotta. Si lotta come leoni? Ricordiamoci dell'araba fenice, tutte le volte muore poi risorge. Eh beh, questa è una bella cosa, è una bella cosa. Senta, siamo Podestà, vogliamo fare una cosa nei prossimi giorni, che dice? Con grande piacere. Beh, grande Peter Sellers, il Peter Sellers del PDL, grande, uguale, identico. Andate a guardare, Peter Sellers, signor Podestà, Presidente della Provincia di Milano. Però Peter Sellers ha beato lui, aveva 20 kg di meno. Dai, lei dice? No, ma l'ho visto una volta qui a... sul Naviglio a Milano, mentre... Non mi pareva così... così ingrassato. Eh, purtroppo. Sì. Però insomma, viva Peter Sellers. Viva Peter Sellers. Sta presto eh, Presidente della Provincia di Milano sarà ospita presto alla Zanzara. Formigoni quando si deve dimettere? Le elezioni quando vanno fatte? No, non posso più parlare perché mi chiamano. Ma quando si deve votare? Adesso o all'aprile? No, alla fine sarà aprile. Alla fine sarà aprile? Ma lei fa il tifo per aprile, pure lei eh? No, non è che faccio il filo, prevedo. Prevede, sì, prevede, prevede. Vabbè, grazie.